Ismael, non segni tanto, ma segni solo gol importanti. Allora ti chiedo che peso ha questo gol nella tua carriera e nel vostro campionato? È importante perché abbiamo vinto, ma non posso dire niente. Vedremo alla fine. Dobbiamo lavorare di più. Oggi ho fatto gol io, la settimana scorsa era Calulu, poi tutti proviamo a fare il più possibile per la scuola. Questa vittoria, questa prestazione più che altro dimostra che avete fatto un salto di qualità perché scendevate in campo dopo le vostre avversarie, scendevate in campo con l'obbligo di vincere, avete retto bene la partita. È l'ennesima dimostrazione di un Milan maturo per provare a vincere qualcosa di importante. Penso che abbiamo preso esperienza, certo, perché ora due anni che siamo insieme, che lavoriamo insieme e poi impariamo da nostre cose, anche se come l'ho detto mancano ancora partite fino alla fine, quindi pensiamo alla prossima. Ora c'è la sosta e ci concentriamo su questo e poi quando torneremo lavoriamo tanto. E la terza vittoria consecutiva per 1-0, ci avete preso gusto? Sono tre punti comunque, quindi certo che vogliamo vincere 2-3 a 0, ma 1-0 è sufficiente, stiamo facendo bene, penso non prendiamo gol, questo è molto importante e facciamo un gol, anche se è solo un gol lo facciamo e vinciamo. Senti, per chiudere, cosa è successo nel finale? Abbiamo visto tanto nervosismo, ci puoi raccontare qualcosa anche tu? Non lo so, non ero con loro, ero al centro campo e veramente non lo so.